La storia Oggi è il 5 ottobre 1954, firmata all'intesa sul territorio libero di Trieste 2000, condanna definitiva della Cassazione per l'omicidio calabrese 1998, muore Federico Zeri Commenta il fatto del giorno Giuseppe De Tommaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Oggi parleremo dell'imprenditore giapponese Honda, un grande perdente di grande successo